Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti, così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere, non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I migliati fanno così e tu non lo sei, non lo sei affatto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ! 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